Bella ragazzi e buon 2016, quest'oggi siamo suggetti a 5 per cazzeggiare in prima persona, quindi andiamo subito ad iniziare Siamo qui con Franklin ragazzi e andiamo subito a prenderci la nostra macchinetta bella e io direi di cominciare facendo un macello con la polizia Perché gli inseguimenti in prima persona sono un qualcosa di troppo epico C'è l'autobus, voglio l'autobus, voglio l'autobus, fermati, 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 no No, l'abbiamo perso, prenderò questa, morto, fermati, 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 ma che cazzo, ma che fa, ma, 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 ma fermati, ma fermati Ok, si è fermata, quest'altro, amico tu non ci ha capito niente, ciao bello, arrivano da laggiù regà, perfetto Abbiamo tre stelle, io direi che bastano, potrei andarcene anche immediatamente Ecco, ammazziamo quelli laggiù Perfetto, andiamocene, andiamocene, facciamo sta bella manovra e via, via La smart, un giorno faremo un inseguimento con la smart regà Posta di blocco, io me blocco e vi sparo tutti quanti Ciao belli, ciao belli Oh, altra macchina, minghie, via, 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 scappa, 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 timbesto Di qua, vai, vai, così, alla Vin Diesel Andiamo, questa è la stazione di polizia, non c'è posto peggiore di cui scappare Via di qua, perfetto, oh, oddio Madonna, 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 che macello è successo, che cosa è successo Fermati, oh, oddio, oddio Ok, andiamoci a prendere un caffè nel frattempo Perché abbiamo bisogno, oh, noi saliamo qua sopra, facciamo macello Beh, perfetto in sto posto, regà Ok, cominciamo a sparare Sì, ma io non, così, non vedo Ok, ok Dove stanno, lastigli Morto Morto, no, quello non è morto Ok, adesso sì Morite, morite Perfetto, dobbiamo scappare, regà, dobbiamo scappare Oddio, che caviaro ho fatto Andiamoci, 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 veloci Veloci, ci sparano Di qua, di qua, di qua, di qua No, 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 no Ok Paraparam, parapam Comincia a farsi difficile adesso Comincia veramente a farsi difficile Dove sono finito? Dobbiamo cambiare anche macchina, ragazzi Questa è distrutta No, no, perché sono andato a finire qua Ok, facciamoci un bagnetto prima di morire Ah L'idromassaggio E comunque Tante cose La piscina è mia, brutti pezzi di merda Solo io ci posso stare nella mia piscina Avete capito? Oh, oh Tu che vuoi? Non hai il costume da bagno Come morire felici Cambiamo personaggio questa volta E prendiamoci Michael Sicuramente Michael si è sognato un porco spino che gli entrava nella schiena E lui che si sdraiava sul letto E veramente sarebbe veramente un incubo della madonna Ok, ho preso Michael, ragazzi Perché con Michael ho comprato l'eliporto E ho anche un elicottero Quindi possiamo fare tante belle cose E sorvolare la nostra Lo stanto Adesso vi faccio vedere come ho ridotto Michael Fare un barbone Però c'ha stile C'ha stile, almeno quello C'è qui una bella berlina rossa Ci prendiamo questa? Ok, qui c'è l'eliporto Quindi dobbiamo aggrare qui qua giù No, mi sono buttato dalla macchina Maledizione Fermati allo stop Fermati allo stop Fermati allo stop Devi fermare per forza E io mi dirubbo la macchina Ciao bello Ok Adesso possiamo andare Wow, 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 wow Bene così Tanto è bella sta macchina Ragazzi, appiotta troppo Però va bene Ecco Subito Così Per iniziare Vai, vai, vai Oh Ma che volo ho fatto? Ma che cosa è successo? Cosa? Cosa è successo? Cosa? Andiamo all'eliporto parte 2 Ok Gieguiamo subito qui Taran taran Ma che macchino ne è? Poi non voglio perdere tempo a Non voglio perdere tempo a rubarla Quindi ce ne andiamo così Qui prima ho fatto un volo di Cristo Ragazzi Ma veramente di Cristo Signora scusi Un'informazione per l'eliporto Signora Signora Vado a fare il culo signora E anche tramonto ragazzi Vediamo un po' che rosso sono le 7 e 10 Quindi sta per tramontare il sole E ci vediamo il tramonto Che cos'è questa musica ambigua? Ah il telefono Ok Godiamoci lo Santos Del tramonto Sull'elicottero E' troppo bello E' troppo bello Andiamo a Santa Monica Andiamo a Santa Monica Sulla ruota panoramica Andiamo così Anzi Atterriamo sulla spiaggia Così direttamente Guardate che spettacolo del tramonto Ragazzi Veramente una cosa bellissima Guardate l'acqua I riflessi sull'acqua Piano Piano Adagio 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 Perfetto Siamo scesi benissimo Siamo scesi molto bene Adesso direi di togliarci C'è un fuoco qui Chi ha acceso questo fuoco E poi se n'è andato? Soprattutto perché? C'è una radio Tre birre Il mio casco qui Giustamente butto per terra Oh Signore salve Un'informazione Sono qui con il mio elicottero Come puoi vedere Però mi servirebbe Un'informazione Ma Signore Le sto parlando È un maleducazione Ma che cosa c'ha in mano? Un topo Ma cos'è? Una mela Cosa c'ha? Ma si fermi signore Eh che cazzo Oh Oh Che mi fa? Ah vuoi fare botte Vuoi fare botte Vuoi fare botte Dai Vuoi fare rissone Vuoi fare rissa Eh? Volemo litigare E litigare Aia Aia Vesso di merda Mi guarda con sta faccia Mi guarda con sta faccia Io ti picchio male È morto Oh Qui ci sono un po' di amici Che bevono La spiaggia Questi sono Questi sono brave persone Ciao ragazzi Sono io Sono East Sono io Eh c'ha ragione pure te Non mi fai dei che video Ti stai a vedere Ma Non te si apre È un problema Oh Oh che me sta bruttì Ah sì Oh Bada 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 Sta calmo Sta tranquillo Che io ti picchio Cioè Cioè Faceva tutto così Faceva tutto Il coatto Poi Poi E' morto Ma vaffanculo Vai Ok Prendiamo il nostro elicottero Andiamo in centro Andiamo in centro Via Mettiamoci il casco Abbiamo caschi infiniti Non si sa Oh Io direi di fare una bella cosa Adesso Andiamo su un palazzo alto Il più alto Andiamo su quel palazzone Laggiù E ci buttiamo di capoccia Perché noi possiamo Siamo nottiata alla città Guardate ragazzi Che cosa stupenda Che è Che cosa bellissima C'è un dirigibile laggiù Ok Su questo palazzo È veramente difficile Atterrare ragazzi Perché Lo spazio è pochissimo Oh 3 Si è rotto le palle Basta chiamarmi Ti accolli Ok No Credo che siamo esplosi Ok ragazzi Io direi che per questo video Cazzeggio Possiamo concludere qui Mi raccomando ragazzi Qui sotto nei commenti Fatemi sapere cos'altro Potrei fare su GTA 5 Per cazzeggiare Insomma Consigliatemi voi Cose stupide Cose fighe da fare E proverò a farle Quindi ragazzi Mi raccomando Lasciate un like Condividete questo video Sui vostri social E noi ci vediamo come sempre Al prossimo video Tu hai visto Per là